Grandi novità per le aree di risulta di Pescara. Questa mattina l'amministrazione comunale ha infatti annunciato l'avvio della bonifica per gli ultimi mesi di quest'anno del primo lotto della zona a ridosso della stazione ferroviaria. Tutto questo poi porterà all'avvio dei lavori nei primi mesi, probabilmente del nuovo anno. Due mesi fa noi abbiamo chiuso la procedura che avevamo avviato per il discorso con i privati perché non abbiamo trovato nel bando un privato che rispondesse con un intervento complessivo sull'area di risulta. Sappiamo di avere a disposizione 20 milioni e 500 mila euro per intervenire su quell'area. Cominciamo con un primo lotto che prevede la bonifica di tutta l'area di risulta, importantissima. Cosa consisterà questa bonifica? La bonifica ambientale prevista per tutti gli interventi pubblici, quindi ci sarà un progetto di bonifica che poi sarà effettuato dall'impresa che vincerà il bando. A questa bonifica seguirà l'intervento di realizzazione del parcheggio lato sud con mille posti auto, la realizzazione del parco centrale di circa 6,5 ettari, 65 mila metri quadrati. Quindi un intervento importantissimo oltre alla viabilità e al terminal bus nella zona nord in corrispondenza dell'hotel G. Questi interventi saranno realizzati tutti dal pubblico, nel senso che gli interventi saranno fatti dal comune di Pescara. Sappiamo che abbiamo a disposizione delle somme e le utilizziamo per sbloccare finalmente, dopo tanti anni, quel processo di riqualificazione dell'area di risulta. Nell'occasione il sindaco Carlo Masci ha poi annunciato che il comune di Pescara potrà, grazie ad un decreto interministeriale, avere dei fondi e delle risorse straordinarie per far fronte al debito sottoscritto dall'ente sette anni fa e da pagare in dieci anni e non più in trenta, come aveva deciso nelle scorse settimane la Corte Costituzionale con un'apposita sentenza. Qualche mese fa avevo lanciato l'allarme di questa richiesta pesantissima nei confronti del comune di Pescara e di altri comuni italiani a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che aveva stabilito che la somma assegnata al comune nel 2015 per il piano di rientro dovesse essere restituita non più in trent'anni ma in dieci anni, sarebbe stato un peso incredibile per il comune, dovevamo restituire già a giugno circa 12 milioni e mezzo di euro, avevo lanciato quell'allarme e da allora ho cominciato un'interlocuzione con il ministero, con tutti coloro che potessero aiutare il comune a trovare le soluzioni all'interno di un intervento statale e adesso abbiamo avuto la notizia che ci viene dal ministero, anzi dalla conferenza Stato-Città, la notizia è che lo Stato ha stanziato risorse per intervenire a favore dei comuni che si trovano nella condizione di quello di Pescara.